Ciao, sono Alex e questo è un video molto corto perché voglio soltanto parlarvi brevemente di una nuova occasione, un nuovo programma che sto lanciando in questi giorni e che inizierà a marzo. Tarot Pro è un programma per chi vuole padroneggiare i tarocchi a livello professionale e l'ho chiamato appunto Tarot Pro perché vi dà tutti i segreti del mestiere che io ho accumulato negli anni per leggere proprio a livello professionale. È rivolto per chi vuole fare un salto di qualità a metà rocchi ma vuole andare oltre il livello amatoriale e per chi anche ha magari proprio un'attività di tipo olistico o spirituale e vuole includere appunto i tarocchi come aiuto a le persone che si rivolgono ai loro servizi. Per chi non mi conosce brevemente sono Alex di Minty Taro, sono una tarologa ma anche cartomante nel senso che spazio diciamo dalla cartomanzia alla tarologia e sono un taro coach per cui faccio anche taro coaching che è un servizio di coaching attraverso i tarocchi. Sono anche una coach di sviluppo intuitivo perché aiuto le persone che si rivolgono a me a sviluppare le proprie doti intuitive. Questo programma ve lo consiglio veramente se volete veramente padroneggiare i tarocchi perché ci ho messo tutto. Ho messo tutto quello che insegno a livello individuale e a livello di gruppo, quello che ho fatto fino adesso con i miei studenti ma anche di più perché appunto serve a dare tutti gli strumenti per imparare a leggere i tarocchi a livello professionale proprio iniziare l'attività professionale con i tarocchi. Quindi ci saranno anche segreti anche di business mettiamola così ecco dove dove leggerli, che tipo di letture si possono dare, che tipo di consulti eccetera. Brevemente vi descrivo gli step che sono inclusi in questo programma che appunto inizia con approcciare la lettura intuitiva delle carte che è molto importante perché si va oltre la memorizzazione dei significati, ci focalizzeremo poi anche su capire come leggere finalmente le figure di corte, dei tarocchi che sono le carte secondo me più problematiche, quindi capiremo come interpretarle se come rappresentative del consultante, di altre persone oppure di eventi e situazioni lavoreremo per dare dei messaggi chiari, diretti e concreti per rispondere alle domande sia di tipo quotidiano che di tipo evolutivo, spirituale, karmico perché appunto i tarocchi hanno vari registri e possono essere letti sia per questioni più concrete che per questioni più psicologiche o più spirituali e quindi cercheremo insieme di capire come appunto interpretare le carte per rispondere a domande di qualsiasi tipo in qualsiasi settore. Un grande lavoro sarà rivolto anche agli arcani maggiori che assolutamente sono più problematici da leggere in maniera concreta, quindi lavoreremo molto per sfaldare questo mito degli arcani maggiori, poi ci rivolgeremo a vari tipi di settori appunto sia più spirituale, karmico che più quotidiano ma anche relazionale, sentimentale, lavorativo, carriera, eccetera. Ovviamente nel programma sarà inclusa la parte relativa alle combinazioni di carte, che vuol dire che vedremo insieme come leggere in maniera fluente, naturale e senza essere bloccati i vari gruppi di carte che possono variare di numero da 2 a 9 anche più. Una mia caratteristica, se vedete i miei video in YouTube, è quella di leggere le carte insieme, raramente le leggo in maniera individuale perché è il mio modo di leggere le carte, quindi ovviamente vi trasmetterò questa metodologia che permette appunto anche di cogliere in maniera molto più intuitiva la storia che viene fuori durante la lettura e di selezionare in realtà anche in maniera molto più intuitiva il significato che sembra più, cioè che è più consono alla situazione che si sta leggendo. Quindi assolutamente il programma includerà questa parte che permetterà appunto di leggere le carte insieme, di riuscire a combinare e leggere insieme le carte in svariati modi poi in realtà. E poi sicuramente includo le tecniche appunto di taroccoaching che è un sistema di utilizzare i tarocchi per creare delle trasformazioni, per aiutare nei dubbi il consultante, per fare proprio un coaching, per aiutare il consultante a, come dire, trasformare la propria vita, la propria situazione, raggiungere degli obiettivi che si è prefisto. Quindi ci sono delle tecniche particolari, delle stesse particolari che vedremo insieme durante questo percorso. E poi come ho detto fin dall'inizio ci sarà tutto una parte dedicata a come creare il business, come creare l'attività professionale a livello anche pratico, come trovare potenziali clienti, come gestire il consultante, il consulto e tutte le possibili problematiche che uno può avere durante il consulto, prima e anche dopo. Come ho detto è un programma che include tutti gli insegnamenti che finora ho rivolto ai miei studenti, più li espande questi insegnamenti e li potenzia, perché appunto è inteso non tanto a, come dire, risolvere problematiche specifiche, ma proprio creare tutto un percorso di tipo proprio professionale per coloro che vogliono proprio padroneggiare i tarocchi a livello professionale. Il che vuol dire che per accedere a questo programma bisogna già conoscere i significati delle carte, più o meno, insomma, perché non verranno insegnati i significati, non si parte da zero, si parte da un livello medio-alto per appunto raggiungere tutto, completare il percorso, diciamo, in modo da poter proprio buttarsi nel mondo e leggerli agli altri ed essere pagati anche per leggere i tarocchi, quindi bisogna essere professionali alla fine di questo percorso, quindi non si può iniziare da zero perché sarebbe molto più lungo, quindi dovete già conoscere le carte dei tarocchi, già conosce più o meno il mazzo. Se volete più dettagli posterò il link qui sotto nella parte dei commenti. Tra l'altro per chi si iscrive c'è la possibilità di un pagamento mensile oppure di pagare l'intero ammontare e quindi ci sarà uno sconto per chi paga l'intero ammontare all'inizio e se vi iscrivete pagando l'intero ammontare entro il 12 febbraio ci sarà anche l'offerta, diciamo, la possibilità di avere una sessione coaching individuale con me di un'ora, un'ora e mezza da richiedere durante il percorso quando volete, quindi quando avete dei dubbi, volete risolvere qualcosa di specifico avrete questa possibilità, se vi iscrivete entro il 12 febbraio. Bene, se avete domande sapete come contattarmi o per email mintitaro-gmail.com oppure per messaggio in Facebook. Ciao!